Io auspico un meccanismo diverso, condiviso e che finalmente possa fare della RAI quella cosa che in tanti abbiamo auspicato, abbiamo sperato che avvenisse anche dentro il Partito Democratico quando si diceva fuori partiti alla RAI e poi tutto questo purtroppo non è avvenuto. I partiti non sono usciti alla RAI, ci sono, sia quelli di maggioranza che di opposizione e sarebbe il caso sulla RAI di far cadere questo velo di ipocrisia che si tramanda di padre in figlio, di partito in partito, dal più vecchio che è la Lega al più giovane che è il Movimento 5 Stelle. Nessuno di questi partiti, anche se non amano chiamarsi partiti, è immune dalle responsabilità sull'occupazione della RAI.